Musica Bella a tutti ragazzi del GTF clan, sono Midino e bentornati sul canale del clan con un nuovo video Oggi sono tornato con un gameplay a mio parere molto carino in quanto si tratta di 61 kills su deathmatch a squadre fatte in solo Penso che però dei miei 60 più non ho fatto tipo 4 o 5, questo sia il più bello in assoluto Perché ho giocato, ero tipo a livello 12-13, anzi 23 scusate ho guardato adesso dalla televisione, ero a livello 23 e non avevo niente di sbloccato Infatti le armi ne tirerò su un miliardo da terra, giocherò con tipo 20 armi diverse E le ricompense soprattutto erano solo Wav e attacco fulminio Per fare un 60 più il Visat è quasi ovvio che ce lo devi avere, io invece in questo caso non lo avevo e sono riuscito lo stesso a fare 61 kills All'interno di questo gameplay c'è anche stato un nuclear che voi qua sul canale avete già visto perché era quello senza Visat in tipo 120 secondi molto veloce E appunto quindi lo avete già visto Allora ho deciso di far partire la partita da un po' dopo così vedete anche il resto Mi scuso innanzitutto se appunto è venuto il video solo di 2 minuti e 50 di neanche 3 minuti Solo che ovviamente se vi avessi portato anche il primo nuclear molti di voi lo avevano già visto C'è anche la prima parte dove c'era il nuclear molti di voi l'avevano già visto E quindi magari poteva risultare noioso Piccola cosa, alla fine, pochi secondi prima della fine c'è tipo un secondo dove la partita salta Non perché succede qualcosa di strano, semplicemente c'è stato il buffering mentre registravo Poi sono andato avanti, non avevo voglia di tornare indietro, ho tagliato via C'è fatto molto velocemente così, quindi non pensate sia niente di strano Allora ragazzi, come arma stavo giocando con il type inizialmente Però qua non lo vedete, quindi diciamo che ho giocato quasi unicamente con l'Mtar Poi ho preso un M1216, uno scorpion, un po' di tutto Ho avuto una fortuna che i nemici erano abbastanza inesperti Però c'è da dire che comunque me la sono gestita bene Perché ovviamente essendo i nemici inesperti anche i compagni avrebbero potuto fare molte kills Invece così non è stato Questo gameplay è abbastanza datato in quanto l'ho effettuato il 13 aprile Che risale quasi a tre mesi fa Quindi penso sia un gameplay abbastanza datato e quindi storico No, non è vero, comunque a mio parere è davvero un bel gameplay Con questo all'estate alla fine farò una strage E comunque appunto il mio attacco fulmino mi farà un casino di kills È stato diciamo l'unico piccolo fattore che mi ha aiutato a fare questo gameplay Io mi scuso anche se non c'è la facecam in questo commentary come ormai vi avevo abituato Solo che quando mi è stato detto di fare questo commentary Ossia oggi per me che ieri per voi Io avevo tantissimo da fare perché dovevo tipo andare fuori a pranzo, fuori a cena Cioè un casino e mi sono ritagliato dieci minuti per fare il video Ma non avrei avuto tempo per farvelo con la facecam Quindi mi scuso ma state tranquilli che dal prossimo video ce l'avrete sempre Sarò sempre con voi Quindi ragazzi spero davvero che il video vi sia piaciuto Vi ringrazio per il supporto che ci state dando Vi invito a passare dai link che trovate in questo video in descrizione Magari fate un salto dal mio canale Per oggi da JTF Merino è tutto e bella Non ti piacciono i JTF Non ti ammazzati Figa sparati